ING nasce nel 1988. Un anno ancora e sarebbe caduto il muro di Berlino. Un processo di cambiamento stava nascendo e anche noi stavamo pensando a un nuovo modo per far crescere le aziende. Oggi come allora il valore del cambiamento è l'integrazione. Mettere assieme cose apparentemente lontane in una nuova prospettiva. Ed è così che abbiamo deciso di fondere la consulenza con la formazione. L'integrazione ha avuto un ruolo significativo anche per il nostro team, che vede protagonisti esponenti del mondo aziendale e del mondo accademico. Far convergere conoscenze e metodologie con un approccio multidisciplinare continua ad essere un nostro valore. Negli anni 90 con l'avvento di internet e subito dopo nel 2000 con la nascita dei social network, anche la comunicazione stava cambiando. Ci siamo così specializzati nel creare strumenti e metodi che possono aiutare le persone a gestire le relazioni in un mondo in cui i rapporti interpersonali sono sempre più complessi. Aggiornamento continuo e un approccio rigoroso a livello scientifico hanno permesso il riconoscimento dell'efficacia e della qualità dei nostri percorsi, oltre a favorire la nascita di solidi rapporti di partnership. I clienti che ci hanno dato la loro fiducia appartengono al mondo delle grandi aziende e delle professioni. Li accomuna la curiosità e il desiderio di migliorare le loro competenze, accompagnati da un team di professionisti appassionati al mondo delle relazioni. Molteplici sono i temi che affrontiamo nei nostri percorsi di formazione. 4. Le macro aree di riferimento. Gestione delle relazioni, organizzazione, sviluppo personale, efficacia realizzativa. Le modalità che utilizziamo sono funzionali a raggiungere più rapidamente gli obiettivi che ci hanno affidato i nostri clienti. Formazione in aula, esperenziale, outdoor, assessment, coaching. Quotidianamente ci confrontiamo con accademie, centri di studio, scuole di specializzazione e istituzioni perché crediamo che il confronto sia alla base di uno sviluppo solido e duraturo. E così dal 2011 abbiamo consolidato il nostro rapporto di collaborazione con le università, l'ordine degli psicologi, il ministero degli interni e la polizia, alla cui crescita contribuiamo con la nostra specializzazione in analisi emotivo-comportamentale e della credibilità. Rappresentiamo in esclusiva in Italia Paul Ekman, il massimo esperto mondiale di fisiologia delle emozioni e siamo partner di Emotional Intelligence Academy, Persona Global, Accademia Italiana di Scienze Forensi. Crediamo nella crescita continua e continuiamo ad evolverci, così come continuano a crescere e ad evolversi i nostri clienti e i nostri partner. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.